Parte 6. L'inferno congela. Verruche di terra. La magnum in attesa. Guerriero Zulu. Pugno elementale. Contrattare con l'uomo grasso. Paradiso. Il suono di qualcuno che rinasce. 34. Delle torce si agitavano nel vento freddo, sulla piana desertica a 50 chilometri a nord-ovest dal cratere di Salt Lake City. Circa 300 persone, vestite di stracci e mezze morte di fame, erano accalcate sulla sponda del grande lago salato, in una città improvvisata di scatole di cartone, automobili dissezionate, tende e roulotte. La luce delle torce si diffondeva per chilometri sul terreno piatto e attirava bande sparpagliate di sopravvissuti che stavano arrancando verso est dalle città e dalle cittadine distrutte della California e del Nevada. Ogni giorno e ogni notte, gruppi di persone con i loro averi legati alla schiena, portati in braccio, rinchiusi in valigie o spinti su carriole e carrelli da supermercato, arrivavano all'accampamento e trovavano un pezzo di terra, dura e spoglia, su cui sistemarsi. I più fortunati arrivavano con tende e zaini pieni di cibo in scatola e acqua in bottiglia e avevano armi per proteggere le loro risorse. Quelli più deboli si rannichiavano e morivano quando il loro cibo e la loro acqua si esaurivano o venivano rubati. E i corpi dei suicidi galleggiavano nel grande lago salato, come tronchi, tetri e ondeggianti. Ma anche l'odore dell'acqua salata attirava gruppi disbandati. Quelli che non avevano acqua dolce tentavano di berla e quelli che avevano ferite e ustioni infettate cercavano il suo abbraccio purificante e agonizzante, con il desiderio maniacale dei flagellanti. Al margine occidentale dell'accampamento, su un terreno aspro e cosparso di rocce, oltre cento cadaveri giacevano dove erano caduti. I corpi erano stati spogliati dai predoni, che vivevano in buche nel terreno, ed erano chiamati, con disprezzo, verruche di terra, dalla gente che viveva più vicina alla sponda del lago. Arrivando quasi all'orizzonte occidentale, c'era una discarica di automobili, camper, roulotte, jeep e motociclette, che avevano finito la benzina, o i cui motori si erano bloccati per mancanza d'olio. I predoni sciamavano, strappavano i sedili dalle auto, toglievano gli pneumatici e prendevano le portiere, i cofani e i bauli per costruire le loro bizzarre dimore. I serbatoi venivano svuotati da gruppi di uomini armati dell'accampamento principale e la benzina era conservata per alimentare le torce, perché la luce era diventata il potere e una protezione quasi mistica contro gli orrori dell'oscurità. Due figure, entrambe cariche di zaini, arrancavano attraverso il deserto, in direzione della luce delle torce a meno di un chilometro di distanza. Era la notte del 23 agosto, un mese e sei giorni dopo le bombe. Le due figure camminavano attraverso la discarica di veicoli, non esitando nemmeno quando calpestavano l'occasionale cadavere nudo. Al di sopra degli odori della putrefazione riuscivano a sentire quello del lago salato. La loro auto, una BMW rubata da un parcheggio nella città fantasma di Carson City, Nevada, aveva finito la benzina 20 chilometri prima, e loro avevano camminato per l'intera notte, seguendo il bagliore delle luci, riflesse dalle nuvole basse. Qualcosa sperragliò su un lato, dietro al relitto saccheggiato di una Dodge Charger. La figura in testa si fermò ed estrasse una 45 automatica da una fondina ascellare indossata sotto una giacca a vento di piuma d'oca. Il suono non si ripetè, e dopo qualche istante di silenzio, le due figure ripresero a camminare verso l'accampamento, aumentando il passo. La figura in testa aveva fatto forse altri cinque passi, quando una mano sbucò dal terreno smosso e dalla sabbia ai suoi piedi, e gli afferrò la caviglia sinistra facendogli perdere l'equilibrio. Il suo grido d'allarme e la 45 partirono contemporaneamente, ma la pistola sparò verso il cielo. Cadde, colpendo il terreno duramente con il fianco sinistro, l'aria gli uscì dai polmoni per il colpo e una forma umana spuntò come un granchio da una buca che si era aperta nel terreno. La cosa granchio si avventò sull'uomo con lo zaino, gli piantò un ginocchio nella gola e iniziò a colpirlo in faccia con il pugno sinistro. La seconda figura urlò. Era un urlo da donna. Poi si voltò e iniziò a correre attraverso la discarica. Sentì dei passi alle sue spalle, accorgendosi che qualcuno guadagnava terreno su di lei, e quando voltò la testa per guardare indietro, inciampò su uno dei cadaveri nudi e cadde a faccia in avanti. Tentò di rimettersi in piedi, ma ad un tratto, un piede in una scarpa da tennis le premette sulla nuca, spingendole le narici e la bocca nel terriccio. Con il corpo che si contorceva, iniziò a soffocare. A pochi metri di distanza, la cosa granchio si spostò, usando il ginocchio sinistro per tenere la mano destra dell'uomo schiacciata al suolo e premendogli sul petto quello destro. Il giovane uomo rantolava per respirare, con gli occhi spalancati e sbalorditi sopra una sporca barba bionda. E poi, la cosa granchio, estrasse con la sinistra un coltello da caccia da un fodero di pelle sotto un cappotto lungo e impolverato. Il coltello si mosse rapido e in profondità sulla gola dell'uomo. Poi ancora, e una terza volta, il giovane smise di lottare, e le sue labbra si ritirarono dai denti per formare una smorfia. La donna lottava per la vita, riuscì a girare la testa, con la guancia schiacciata a terra, e implorò «Per favore, non uccidermi! Ti darò, ti darò quello che vuoi! Per favore, non…» Il piede con la scarpa da tennis si ritirò all'improvviso. La punta di quello che sembrava un punteruolo da ghiaccio le punse la guancia, appena sotto il suo occhio destro. «Niente scherzi!» era la voce di un ragazzo. «Acuta e stridula!» «Capito!» Il punteruolo da ghiaccio spinse per sottolineare il concetto. «Sì!» rispose lei. Il ragazzo afferrò una manciata dei suoi capelli di un nero corvino e la tirò in posizione seduta. La donna riuscì a delineare il volto del ragazzo nella debole luce delle torce lontane. Era solo un ragazzino, di tredici o forse quattordici anni, che indossava un maglione marrone troppo grande e lurido e pantaloni grigi con dei buchi sulle ginocchia. Era magro al punto da essere emaciato e il suo volto dagli zigomi alti era pallido e cadaverico. I suoi capelli scuri erano incollati al cranio dallo sporco e dal sudore e indossava un paio di occhialini, di quel tipo rivestito di cuoio malmesso che, immaginò, avrebbero potuto indossare i piloti di caccia della Seconda Guerra Mondiale. Le lenti gli ingrandivano gli occhi come se fossero delle bocce per i pesci. «Non farmi male, ok? Giuro che non urlerò!» Roland Croninger rise. Era forse la cosa più fottutamente stupida che avesse mai sentito. «Puoi urlare, se vuoi! Non frega a nessuno se urli o no! Togliti lo zaino!» «Lo hai preso?» gridò il colonnello Macklin, da dove era accovacciato sull'altro corpo. «Sì, signore!» rispose Roland. «È una donna!» «Portala qui!» Roland raccolse lo zaino e fece un passo indietro. «Inizia a camminare!» Lei fece per alzarsi, ma lui la spinse di nuovo a terra. «No! Non in piedi! Su mani e ginocchia!» Lei iniziò a gattonare sul terreno, superando i cadaveri marci. Dietro ai suoi denti c'era bloccato un urlo, ma non lo lasciò andare. «Rudy?» chiamò debolmente. «Rudy? Stai bene?» E poi vide la figura nel cappotto nero aprire lo zaino di Rudy. Vide tutto il sangue e sapeva che erano finiti nella merda più totale. Roland lanciò l'altro zaino al colonnello Macklin e poi si infilò il punteruolo da ghiaccio nella cintura elastica dei pantaloni che aveva preso dal cadavere di un ragazzo all'incirca della sua età e della sua corporatura. Prese l'automatica dalle dita morte di Rudy, mentre la donna sedeva poco lontana, guardandoli stordita. «Ottima arma!» disse a re. «Ci sarà utile!» «Dovrebbe avere altre munizioni», rispose Macklin, frugandone lo zaino con una mano. Tiro fuori calzini, mutande, dentifricio, una gavetta militare e una borraccia che imise uno sciabordio quando l'agito. «Acqua!» disse. «Oh Gesù! È acqua dolce!» Strinse la borraccia tra le cosce, ne svitò il tappo e beve diversi sorsi di acqua dolce e deliziosa. Gli corse tra la barbetta ispida striata di grigio che gli stava crescendo e gocciolò a terra. «Anche tu hai una borraccia?» chiese Roland alla donna. Lei annuì, togliendosi la tracolla della borraccia da sotto il cappotto di ermellino che aveva preso da una boutique a Carson City. «Indossava jeans alla moda leopardati e stivali costosi e intorno al collo aveva file di perle e diamanti. Dammela!» Lei lo guardò in faccia e raddrizzò la schiena. Era solo un teppista e lei sapeva come gestire i teppisti. «Fanculo!» gli disse e l'aprì e iniziò a bere, con i suoi duri occhi azzurri che lo sfidavano da oltre il bordo della borraccia. «Ehi!» gridò qualcuno dall'oscurità. La voce era rauca, dal suono osceno. «Avete preso una donna laggiù?» Roland non rispose. Guardò muoversi il collo setoso della donna mentre beveva. «Ha una bottiglia di whisky!» continuò la voce. «Ti propongo uno scambio!» La donna smise di bere. La perrie d'un tratto aveva un saporaccio. «Una bottiglia di whisky per trenta minuti!» disse la voce. «Te la ridarò quando avrò finito! D'accordo?» «Io ho un pacchetto di sigarette!» gridò un altro uomo dalla sinistra, oltre una jeep capovolta. «Quindici minuti per un pacchetto di sigarette!» La donna richiuse frettolosamente la borraccia e la lanciò ai piedi del ragazzo. «Tieni», disse, continuando a guardarlo negli occhi. «Puoi averla tutta!» «Munizioni!» esclamò Macklin, tirandone fuori tre confezioni dallo zaino di Rudy. «Ci siamo procurati della potenza di fuoco!» Roland aprì la borraccia, beve qualche sorso d'acqua, la richiuse e si passò la tracolla sulla spalla. Da tutte le direzioni arrivavano le voci di altre verruche di terra che offrivano riserve di liquori, sigarette, fiammiferi, barrette di cioccolato e altri oggetti di valore per avere del tempo con la donna appena catturata. Roland restò in silenzio, ascoltando le offerte in aumento con il piacere di un banditore d'asta che sa di avere un pezzo davvero di valore. Studiò la donna attraverso gli occhialini che si era costruito, incollando le lenti della gradazione giusta, trovate nelle rovine di un'ottica a pocatello, dentro degli occhialini da comandante di carro armato. Non aveva segni, tranne che per diversi piccoli tagli che stavano guarendo sulle sue guance e sulla fronte. E già solo questo la rendeva un articolo speciale. La maggior parte delle donne dell'accampamento aveva perso capelli e sopracciglia ed era segnata da cheloidi di vari colori, da nero bruno a scarlatto. I capelli neri di questa donna le ricadevano sulle spalle. Erano sporchi, ma non aveva chiazze mancanti, il primo segno dell'avvelenamento da radiazioni. Aveva un volto forte e dalla mascella squadrata. Una faccia altezzosa, pensò Roland. Il volto della regalità dura. I suoi occhi blu elettrico si mossero lentamente dalla pistola al cadavere di Rudy e poi di nuovo al volto di Roland, come se stesse calcolando i vertici precisi di un triangolo. Roland pensò che doveva avere intorno ai trent'anni e i suoi occhi scivolarono sui rigonfiamenti dei suoi seni, che gonfiavano una maglietta rossa con la scritta «Stronza ricca» stampata sopra, con i brillantini, sotto il cappotto d'ermellino. Pensò di vedere sporgere i suoi capezzoli, come se il pericolo e la morte avessero acceso il suo motore sessuale. Sentì una pressione nello stomaco e distolse rapidamente lo sguardo dai capezzoli. Di colpo si era chiesto che sensazione sarebbe stata tenerne uno tra i denti. Le labbra piene della donna si separarono. «Ti piace quello che vedi?» «Una torcia!» offrì una delle verruche di terra. «Ti darò una torcia per lei!» Roland non rispose. Questa donna lo faceva pensare alle foto nelle riviste che aveva trovato nell'ultimo cassetto del comò di suo padre, in quell'altra vita di tanto tempo prima. Il suo basso ventre si stava contraendo e sentiva una pulsazione nei testicoli, come se un pugno brutale li stesse strizzando. «Come ti chiami?» «Sheila», rispose lei. «Sheila Fontana. Tu come ti chiami?» Con la fredda logica di una sopravvissuta nata, aveva deciso che le sue probabilità erano più alte qui, con questo teppista e l'uomo con una mano sola, che là fuori nell'oscurità con quelle altre cose. L'uomo con una mano sola imprecò e gettò a terra ciò che restava dello zaino di Rudy. «Roland Croninger». «Roland», ripete lei, pronunciandolo come se stesse leccando un lecca-lecca. «Non ha intenzione di darmi a loro, vero Roland?» «Era tuo marito?» Roland diede un colpetto con il piede al corpo di Rudy. «No, viaggiavamo insieme, tutto qua». In effetti, avevano vissuto insieme per quasi un anno e lui era stato un suo protettore a Oakland, ma non c'era bisogno di confondere il ragazzo. Guardò la gola insanguinata di Rudy e distolse rapidamente lo sguardo. Sentì una fitta di rimorso, perché lui era stato un buon amministratore, un amante fantastico, e li teneva riforniti con un sacco di roba. Ma adesso era solo carne morta, ed era quello il modo in cui girava il mondo. Come avrebbe detto Rudy stesso, devi pararti il culo, a qualsiasi costo. Qualcosa si mosse a terra, alle spalle di Sheila, e lei si voltò per guardare. Una forma vagamente umana stava strisciando verso di lei. Si fermò a due, due metri e mezzo, e una mano coperta da ferite aperte e trasudanti sollevò una borsa di carta. «Cioccolato?» offrì una voce storpiata. Roland sparò con l'automatica, e l'esplosione dello sparo fece saltare Sheila. La cosa per terra grugnì, e poi emise un suono simile al guaito di un cane. Si mise in ginocchio, e si inoltrò freneticamente tra i rottami dei veicoli. Sheila capì che, dopo tutto, il ragazzo non l'avrebbe consegnata a loro. Delle risate rauche e mescolate arrivarono da altre buche nascoste nel terreno. Sheila aveva passato l'inferno da quando lei e Rudy avevano lasciato la capanna di uno spacciatore di cocaina nella sierra, dove si stavano nascondendo dalla polizia di San Francisco quando avevano colpito le bombe. Ma questo era di gran lunga il peggio. Guardò negli occhi del ragazzo, coperti dagli occhialini. Abbassando lo sguardo, perché era alta quasi un metro e ottanta. Aveva le ossa grosse come una guerriera amazzone. Ma era tutta curve e con discendenza quando le conveniva, e sapeva che lo aveva preso all'amo. «Che diavolo è questa merda?» disse Macklin, chino sulle cose che aveva tirato fuori dallo zaino di Sheila. La donna sapeva cosa aveva trovato l'uomo con una mano sola. Si avvicinò a lui, non prestando attenzione alla 45 del ragazzo, e vide quello che aveva in mano. Un sacchetto di plastica pieno di cocaina bianca come la neve e di qualità superiore. Intorno a lui c'erano dispersi altri tre sacchetti di cocaina purissima e una dozzina di bottigliette di plastica di pillole di popper, anfetamine, pentobarbital, marijuana, ecstasy red lady, PCP e LSD. «È la mia borsa delle medicine, amico», gli disse. «Se stai cercando del cibo, là dentro ho anche un paio di vecchi hamburger e delle patatine. Prendili pure, ma rivoglio la mia riserva». «Droghe», si rese conto Macklin. «Cos'è questa? Cocaina?» Lasciò cadere il sacchetto e raccolse una delle bottigliette, voltando verso di lei il suo viso sporco e macchiato di sangue. Il suo taglio militare stava ricrescendo, con i capelli castano scuro spruzzati di grigio. I suoi occhi erano buchi profondi scavati in una faccia dura come la roccia. «Anche pillole! Cosa sei? Una tossica?» «Sono una buongustaia», rispose lei calma. «Pensò che il ragazzo non avrebbe permesso a quel pazzo stronzo con una mano sola di farle del male, ma attese i muscoli per la fuga o per la lotta». «Tu cosa sei?» «Lui è il colonnello James Macklin», le disse Roland. «È un eroe di guerra». «A me sembra che la guerra sia finita e abbiamo perso. Eroe», disse lei, fissando Macklin dritto negli occhi. «Prendi quello che vuoi, ma ho bisogno di riavere la mia riserva». Macklin valutò la giovane donna e decise che poteva non essere in grado di gettarla a terra e stuprarla come aveva avuto intenzione di fare fino a quel momento. Poteva essere troppo da gestire con una mano sola, a meno che non l'avesse costretta a terra e le avesse tenuto il coltello alla gola. Non voleva provarci e fallire davanti a Roland, anche se il suo pene aveva iniziato a pulsare. Grugnì e scavò alla ricerca degli hamburger. Quando li trovò, lanciò lo zaino a Sheila e lei iniziò a raccogliere i pacchetti di cocaina e le bottigliette di pillole. Macklin strisciò fino al corpo di Rudy e gli tolse le scarpe dai piedi. Tolse un Rolex d'oro dal polso sinistro del cadavere e lo allacciò al proprio. «Come mai siete qua fuori?» chiese Sheila a Roland, che la stava osservando mentre metteva via la cocaina e le pillole. «Come mai non siete laggiù, più vicini alla luce?» «Non vogliono verrucca di terra», rispose Macklin. «È così che ci chiamano, verrucca di terra». Annui verso la buca rettangolare a pochi metri di distanza. Era stata coperta con della tela cerata, impossibile da individuare al buio, e a Sheila sembrò profonda intorno a un metro e mezzo. Gli angoli della tela erano tenuti fermi con delle pietre. «Pensano che puzziamo troppo per stare più vicini». C'era della follia nel ghigno di Macklin. «A te piace il mio odore, signora». Lei pensava che lui avesse l'odore di un maiale in calore, ma si strinse nelle spalle e fece un gesto verso un deodorante right guard che era caduto dallo zaino di Rudy. Macklin rise. Stava slacciando la cintura di Rudy con l'intenzione di sfilargli i pantaloni. «Vedi, noi viviamo qua fuori, di quello che riusciamo a ottenere e a prendere. Aspettiamo che i nuovi passino da qui in viaggio verso la luce». Fece un gesto con la testa verso la riva del lago. «Quella gente ha il potere, armi, un mucchio di cibo in scatola, bottiglie d'acqua e benzina per le loro torce. Alcune di loro hanno addirittura delle tende. Si rotolano in quell'acqua salata e noi sentiamo le loro grida. Non ci fanno avvicinare. Oh no, pensano che la inquineremmo, qualcosa del genere». Tolse i pantaloni a Rudy e li gettò nella buca. «Vedi, la cosa peggiore di tutto questo è che il ragazzo e io avremmo dovuto vivere nella luce adesso. Avremmo dovuto indossare abiti puliti, fare le doce calde e avere tutto il cibo e l'acqua che vogliamo. Perché eravamo preparati. Eravamo pronti. Sapevamo che le bombe sarebbero cadute. Tutti a Earth House lo sapevano». «Earth House? Cos'è?» «E da dove siamo arrivati?» disse Macklin, accovacciandosi sul terreno. «Su, nelle montagne dell'Aidao. Abbiamo camminato a lungo e abbiamo visto molta morte. Roland ha pensato che se fossimo riusciti a raggiungere il grande lago salato avremmo potuto lavarci, rimuovere tutte le radiazioni e il sale ci avrebbe curati. Esatto. Il sale cura. Specialmente questo». Sollevò il moncherino bendato. Le bende insuppate di sangue pendevano e alcune erano diventate verdi. Sheila riuscì a sentire il puzzo di carne infetta. «Ho bisogno di fare un bagno in quell'acqua salata, ma non ci lasciano avvicinare. Dicono che viviamo spogliando i morti. E così ci sparano addosso quando tentiamo di superare il terreno aperto. Ma ora, ora abbiamo la nostra potenza di fuoco». Annui verso l'automatica in mano a Roland. «È un lago grande», disse Sheila. «Non dovete attraversare l'accampamento per arrivarci. Ci potete girare intorno?» «No. Due ragioni. Mentre saremo lontani, qualcuno ci prenderebbe la buca e tutto quello che abbiamo. E secondo, nessuno impedisce a Jimbo Macklin di avere quello che vuole». Le fece un ghigno e lei pensò che la sua faccia assomigliava un teschio. «Loro non sanno chi sono o cosa sono, ma ho intenzione di mostrarglielo. Oh, sì, ho intenzione di mostrarlo a tutti loro». Voltò la testa verso l'accampamento. Restò seduto a guardare le torce a distanza per qualche istante. E poi tornò a guardare lei. «Non ti andrebbe di scopare, vero?» Lei rise. Quell'uomo era quasi la cosa più sporca e repellente che avesse mai visto. Ma anche mentre rideva, sapeva di aver fatto un errore. Smise di ridere di colpo. «Roland», disse Macklin piano. «Portami la pistola». Roland esitò. Sapeva cosa stava per succedere. Ciononostante, il re aveva dato un ordine. E lui era un cavaliere del re e non poteva disubbidire. Fece un passo in avanti ed esitò di nuovo. «Roland», disse il re. Questa volta il ragazzo lo raggiunse e gli mise la pistola nella mano sinistra tesa. Macklin la afferrò goffamente e la puntò alla testa di Sheila. Lei sollevò il mento in segno di sfida. Si mise lo zaino sulla spalla e si alzò in piedi. «Io sto per andare verso l'accampamento», disse. «Forse sarai capace di sparare alla schiena una donna, eroe di guerra. Ma io non lo credo. Ci vediamo, ragazzi. È stato bello». Si costrinse a superare il corpo di Rudy. Poi iniziò a camminare decisa nella discarica, con il cuore che batteva forte e i denti serrati mentre aspettava il proiettile. Qualcosa si mosse alla sua sinistra. Una figura coperta di stracci si accovacciò dietro il rottame di una Chevrolet Station Wagon. Qualcos'altro scattò sul terreno a sei metri davanti a lei e si rese conto che non sarebbe mai arrivata viva all'accampamento. «Ti stanno aspettando», gridò Roland. «Non ti lasceranno mai arrivare lì!» Sheila si fermò. Le torce sembravano così lontane, così terribilmente lontane, e anche se le avesse raggiunte senza essere stuprata o peggio, non c'era certezza che non sarebbe stata stuprata nell'accampamento. Sapeva che senza Rudy era carne che cammina e che attira le mosche. «È meglio se torni indietro!» la incitò Roland. «Sarai più al sicuro con noi!» «Più al sicuro», pensò Sheila con sarcasmo. «Certo! L'ultima volta che era stata al sicuro era quando andava all'asilo. Era scappata di casa a 17 anni con il batterista di una rock band. Era finita a Hollywood e aveva attraversato le fasi della cameriera, della ballerina in topless, della massaggiatrice in un salone di bellezza sul Sunset Strip, aveva fatto un paio di filmini porno e poi aveva incontrato Rudy. Il mondo era diventato una giostra folle di cocaina, popper e uomini senza volto. Ma la verità profonda era che le piaceva. Perché non c'erano pianti per occasioni sprecate, nessuno inginocchiarsi per chiedere perdono, le piaceva il pericolo, le piaceva il lato oscuro del rock, dove si nascondevano le cose della notte. La sicurezza era noiosa e lei aveva sempre pensato che sarebbe vissuta una volta sola, per cui perché non vivere al massimo. Ciò nonostante, non pensava che correre il rischio con quelle sagome striscianti sarebbe stato divertente. Qualcuno fece una risatina nel buio. Era una risatina di anticipazione folle e quel suono fece prendere a Sheila la sua decisione. Si voltò e tornò al punto in cui aspettavano il ragazzo e l'uomo con una mano sola e stava già studiando un modo per arrivare a quella pistola e far saltare la testa ai due. La pistola l'avrebbe aiutata a raggiungere le torce sulla riva del lago. «Mettiti su mani e ginocchia», ordinò Macklin, con gli occhi scintillanti sopra la sua barba sporca. Sheila sorrise appena e si tolse lo zaino, mettendolo a terra. «Che diamine! Non sarebbe stato peggio di altri tizi anonimi sullo strip?» Ma non voleva dargliela vinta così facilmente. «Sì, gentile, eroe di guerra», disse con le mani sui fianchi. «Perché non lasci il primo turno al ragazzo?» Macklin guardò il ragazzo, i cui occhi sembravano pronti a esplodere dalla testa dietro gli occhialini. Sheila slacciò la sua cintura e iniziò a sfilarsi i pantaloni leopardati dalla vita, poi dalle cosce e poi sugli stivali da cowboy. Non indossava intimo. Si mise su mani e ginocchia, aprì lo zaino e tirò fuori la bottiglietta delle anfetamine. Mandò giù una pillola e disse «Vieni, tesoro! Fa freddo qua fuori!» All'improvviso Macklin rise. Pensò che quella donna aveva coraggio e, anche se non aveva ben chiaro cosa avrebbero dovuto fare di lei dopo aver finito, sapeva che lei era della sua specie. «Procedi», disse a Roland «Sì, un uomo». Roland se la stava facendo sotto dalla paura. La donna lo aspettava e il re voleva che lo facesse. Pensò che quello era un importante rito di virilità che un cavaliere del re doveva superare. I suoi testicoli stavano per esplodere e l'oscuro mistero tra le cosce della donna lo attirava verso di lei come un amuleto ipnotizzante. Le verruche di terra strisciarono più vicine per godersi lo spettacolo. Macklin sedette a osservare con gli occhi cupi e seri e si passò la canna dell'automatica avanti e indietro sotto il mento. Sentì una risata fioca proprio dietro alla sua spalla sinistra e seppe che questo piaceva anche al soldato ombra. Il soldato ombra li aveva seguiti dal Blue Dome, aveva camminato dietro di loro e di fianco ma sempre presente. Al soldato ombra il ragazzo piaceva. Pensava che il ragazzo avesse un istinto assassino che doveva essere sviluppato. Perché nel silenzio dell'oscurità aveva detto a Macklin che i suoi giorni di guerra non erano ancora finiti, questa nuova terra avrebbe avuto bisogno di guerrieri e signori della guerra, uomini come Macklin sarebbero stati ancora richiesti. Come se la domanda fosse mai scesa. Tutto questo gli disse il soldato ombra e Macklin gli credette. Anche lui iniziò a ridere allora, alla vista davanti a lui, e la sua risata e quella del soldato ombra si intrecciarono, si fusero e diventarono una sola.